Stop di otto ore anche in Basilicata per lo sciopero indetto da CGL Will, la manifestazione per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, ma anche un cambio di passo al governo regionale. L'emergenza acqua ancora restrizioni a orari diversificati nei 29 comuni che convivono con la crisi idrica ormai da tre mesi, rassicurazioni dall'ARPAB sull'esito delle nuove analisi eseguite dall'ASP. In chiesta Mare Nostro, Salvatore Scarcia torna in carcere insieme ad altri due presunti sodali del clan. Davanti al riesame regge l'impianto accusatorio sul racket della pesca nel Metapontino. L'ASM è tra le cinque aziende sanitarie peggiori in Italia, a dirlo sono i dati Agenas. ASP nella fascia intermedia, tra gli ospedali voto sufficiente al San Carlo. Calcio continua la consegna delle 200 maglie e del Potenza agli abbonati Rosso-Blu. L'iniziativa che si rinnova di settimana in settimana riceve il plauso della Lega Pro. Come ogni venerdì al termine del Tg, le previsioni meteo per il weekend a cura del nostro esperto Gaetano Brindisi. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo sentivate dai titoli stop di otto ore anche in Basilicata per lo sciopero generale nazionale indetto oggi da CGLUIL. La manifestazione a Potenza per chiedere di cambiare la manovra di bilancio ma anche un cambio di passo al governo regionale. Sentiamo Vittorio Laviano. Pensionati, studenti metameccanici, edili, segretari regionali e nazionali, il Centro Storico di Potenza è stato pacificamente invaso da centinaia di partecipanti allo sciopero generale indetto da CGLUIL. Il combindamento in piazza a Potenza perché oggi oltre alle questioni nazionali c'è da lanciare una vertenza basilicata, una vertenza basilicata che deve essere portata all'attenzione del governo centrale perché qui la grave crisi socio-economica non può essere messa più la polvere sotto il tappeto, non si può più nascondere una realtà dei fatti che è drammatica e questa non è una critica partitico-politica, è una constatazione di una crisi sociale senza precedenti, per cui bisogna tutti fare squadre e portare la vertenza basilicata al governo nazionale. È una piazza che grida dignità, dignità, giustizia sociale, lavoro, un'attenzione maggiore alle condizioni dei pensionati, dei lavoratori, dei disoccupati, dei cassi integrati. La piazza è piena nonostante il tempo che non ci aiuta, ma abbiamo aiutato anche la crisi nitrica con questa manifestazione, ma abbiamo bisogno di risposte, bisogno di risposte che non arrivano. C'è chi evidenzia duramente l'assenza della CISL. Convintamente in piazza per dire sbarra, sbarra, difendi i lavoratori, difendi il lavoro, difendi la dignità, piuttosto che dire fesserie. Noi oggi scendiamo in piazza convintamente per dire no a questa legge di bilancio perché dal 1 gennaio del 2025 i lavoratori si troveranno con 160 euro in meno solo sul cugno fiscale. Vergognatevi! La difesa dei pensionati da Potenza e da Matera. Contro questa manovra di bilancio che non ci soddisse e non dà un futuro a questo Paese, né sul piano dello sviluppo industriale, né tanto meno sul welfare, tra cui le pensioni. Avere 3 euro di pensione come aumento è una vergogna e noi lo vogliamo manifestare a tutto il mondo. Convintamente in piazza per lottare contro questa manovra economica non solo sbagliata, inadeguata, che non dà nessuna prospettiva al Paese. I prossimi giorni continueremo con la mobilitazione. Il governo guardasse le 50 piazze d'Italia tutte e piene e aprisse il confronto per il bene del Paese e per dare risposte ai bisogni sociali dei lavoratori e dei pensionati. La voce degli studenti. Il sistema scolastico in generale fa tutto un po' cagare. I professori pure non sentono che questo sistema scolastico è vicino agli studenti. Ha chiuso gli interventi dal palco la segretaria nazionale FISAC CGL. È la prima volta che si chiede un sacrificio alle banche e un prestito. Un prestito che dovrà essere ridato dal Paese alle banche nel 2027 e anche maggiorato. Quindi è una narrazione, soltanto una favoletta che ci vengono a raccontare. Passiamo all'emergenza acqua. Ancora restrizioni a orari diversificati nei 29 comuni che convivono con la crisi idrica ormai da tre mesi. I ritardi nell'erogazione si registrano ad Irsina, mentre l'ARPAB ha comunicato l'esito positivo delle nuove analisi effettuate sul campione prelevato in uscita dal potabilizzatore di Masseria Romaniello. Sentiamo Michelangelo Russo. Rubinetti attivi dalle 9 alle 11 ore di fila. Se il calendario prodotto da Quedotto Lucano continua ad essere strutturato ad orari diversificati, quantomeno aumentano le ore di copertura del servizio nei 29 comuni interessati dalle interruzioni idriche da ormai quasi tre mesi. Tuttavia si registrano ancora disservizi a Irsina, nonostante la comunicazione di ieri sera, acqua dalle 7 alle 16, sorpresa amara per i cittadini che hanno dovuto attendere molto più del previsto il ripristino dell'erogazione. Le manovre di apertura dei serbatoi a causa di un intervento sulla rete idrica hanno richiesto un ritardo nell'attivazione dei rubinetti. Il sindaco facente funzioni ha chiesto pertanto ad Acquedotto Lucano di ritardare anche la chiusura e di posticiparla al tardo pomeriggio. Nel centro abitato e nelle zone rurali di potenza disponibilità idriche invece dalle 7 alle 17. E di crisi idrica si parlerà domani nel pomeriggio al palazzetto dello Sport di Avigliano alla presenza del sindaco Giuseppe Mecca e soprattutto del presidente della regione Vito Bardi, nonché dell'amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta. Un incontro mai così utile per confrontarsi con i cittadini ormai esasperati dalla situazione. Mentre domenica alle 17 nella sala consigliare del comune di Tricarico è prevista l'assemblea pubblica del comitato Acqua Pubblica. Intanto l'ARPAP ha analizzato anche le acque in uscita dal potabilizzatore di masseria Romaniello. Il campione non presenta superamenti dei valori, ha comunicato l'agenzia. Mentre la CGL accoglie con soddisfazione l'avvio dell'indagine conoscitiva della Procura. Ritenuta una garanzia per la trasparenza e per la regolarità delle attività svolte dagli enti pubblici preposti e soprattutto del diritto universale di accesso all'acqua, che è un bene pubblico, nonché della salute pubblica, afferma il segretario generale di Potenza, Vincenzo Esposito. La cronaca scatta l'obbligo di firma per un 26enne di Potenza dopo la convalida del suo arresto a seguito del ritrovamento nella sua disponibilità di mezzo chilo di stupefacenti, hashish, marijuana e cocaina e 68 sigarette elettroniche drogate. Un'assoluta novità questa nel panorama degli stupefacenti in Basilicata. Le sigarette elettroniche sequestrate sono vendute a un prezzo di mercato intorno ai 50 euro e sono estremamente pericolose per la salute di chi ne fa uso, soprattutto se giovanissimi. All'individuazione del giovane è poi arrestato e ora sottoposto all'obbligo di firma, si è giunti nell'ambito dell'inchiesta Affari Tuoi che nel marzo scorso ha colpito un ingente traffico illegale di droga proveniente dalla Spagna attraverso pacchi assolutamente anonimi spediti servendosi di regolari corrieri. Passiamo all'inchiesta Mare Nostro sul presunto racket della pesca nel Metapontino. Nuovo arresto per Salvatore Scarcia dopo l'assoluzione in Calabria dall'accusa di mafia. Con lui finiscono in carcere anche altri due presunti sodali del clan, come ci spiega Fabrizio Di Vito. Tre persone, Salvatore Scarcia, Michele Sibilla e Giuseppe Martera, sono state arrestate su disposizione del GIP di Potenza nell'ambito di un'inchiesta che il 2 ottobre scorso portò al fermo di 21 persone accusate dalla DDA di Potenza di estorsione, illecita concorrenza, detenzione, porto di esplosivi ed armi per un totale di 81 reati fine. I tre arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Melfi. L'inchiesta, denominata Mare Nostro, aveva ipotizzato l'esistenza di una confederazione mafiosa riferibile alle famiglie Scarcia e Scarci, operante sul litorale Ionico Lucano, accusata di aver imposto la cosiddetta signoria lungo il litorale Ionico Lucano attraverso il controllo delle attività professionali della pesca con l'utilizzo della violenza e la richiesta del pizzo agli imprenditori per poter operare in uno specchio di mare da Metaponto a Novasiri che consideravano di fatto come di loro proprietà. Lo scorso 22 ottobre il GIP Salvatore Pignata, riconoscendo la sussistenza e l'operatività dei presunti clan, aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 11 indagati e agli arresti domiciliari per altri 7. In sede di Convalida del Fermo, per Salvatore Scarcia non era scattata la misura cautelare in quanto all'epoca già detenuto a Taranto per altra causa. Lo scorso 20 novembre è però arrivata la sentenza di primo grado nell'ambito di un processo relativo ad un'inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria che aveva escluso l'ipotesi di associazione mafiosa per Scarcia, alla base della misura cautelare cui era sottoposto, con la condanna a nove anni per l'accusa di spaccio di stupefacenti. Scarcia era stato di conseguenza scarcerato, ma nei suoi confronti il GIP ha firmato una nuova ordinanza di custodia cautelare nei giorni successivi. L'impianto accusatorio prospettato dal GIP è stato confermato anche dal riesame che ha accolto soltanto le istanze di due indagati, Mario Florio e Adriano Scarcia, entrambi tornati in libertà. A Matera, a conclusione delle indagini svolte dalla Polizia di Stato, è stato rinviato a giudizio un diciottenne autore di cinque furti commessi ai danni di altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino. I furti di prodotti alimentari e denaro contante sono avvenuti ad agosto scorso. Il giovane è stato individuato grazie all'ascolto di numerosi testimoni e grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, comprese quelle della questura, atteso che uno dei furti è stato commesso proprio nei paraggi. Dalla prossima settimana al via in Basilicata l'immunizzazione gratuita con anticorpo monoclonale a tutti i nuovi nati contro il virus sinciziale, una delle principali cause di infezioni respiratorie con possibili complicazioni molto gravi durante il primo anno di vita come ad esempio le bronchioliti. La campagna di immunizzazione gratuita ed offerta dalla Regione Basilicata in collaborazione con i cinque punti in ascita regionale di Lago Negro, Matera, Melfi, Policoro e Potenza. Sarà possibile sottoporre a immunizzazione tutti i nuovi nati fino al 31 marzo 2025. Per i nati nei mesi precedenti si procederà a chiamata. Parliamo ancora di sanità, male l'ASM del Materano, ASP in fascia intermedia e San Carlo promosso con la sufficienza. Sono le pagelle che emergono dalle valutazioni dell'Agenas. Ce ne parla Celestino Benedetto. Cinque aziende sanitarie e 13 aziende ospedaliere modello, tutte distribuite tra nord e centro. con l'azienda sanitaria del Materano tra le peggiori, l'ASP nella fascia intermedia e il San Carlo per quanto riguarda gli ospedali con un voto sufficiente. E la fotografia scattata dall'Agenas nell'aggiornamento dei dati al 2023 utili alla valutazione delle performance sanitarie in Italia. Il monitoraggio prende in considerazione tutte le 110 aziende sanitarie territoriali italiane e si basa sulla valutazione di 34 indicatori classificati in sei aree. Prevenzione, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, sostenibilità economico e patrimoniale ed esiti, oltre a 12 sub-aree. Le aziende inoltre sono state suddivise in considerazione del numero di cittadini presi in carico. Il risultato del mix di tutte le aree analizzate, osserva Agenas, porta all'individuazione di 27 aziende con una valutazione complessiva buona, 53 con valutazione intermedia e 30 con una valutazione migliorabile su un totale di 110 aziende territoriali considerate. L'azienda sanitaria di Potenza, come detto, si colloca nella fascia gialla, quella intermedia. Per quanto riguarda gli ospedali, il San Carlo spicca perché è collocato sopra il gruppone delle aziende che presentano i dati più allarmanti. Nell'area dei processi organizzativi, la valutazione degli indicatori di appropriatezza, efficienza ed attrattività indica come le performance di buon livello sono maggiormente presenti. Con un video postato sui social, il sindaco di Castelmezzano, Nicola Valluzzi, ha annunciato il completamento dei lavori della slittovia con le operazioni di collaudo funzionale della pista e il nuovo attrattore ormai prossimo ad entrare in funzione. L'impianto su rotaia collega la montagna del Paschiere con l'abitato di Castelmezzano in località San Marco, una discesa di 750 metri con risalita meccanizzata, una spettacolare galleria di 36 metri lungo il percorso, una velocità massima raggiungibile di 40 km orari. Questi alcuni numeri del nuovo attrattore di Castelmezzano che va ad aggiungersi al volo dell'Angelo. Il 10 e l'8 sorride ancora la Basilicata, Agi Pro News segnala una doppietta da 30.000 euro complessivi, 20.000 euro vinte a Balvano con un 9 e 10.000 a Potenza, grazie ad un 8. E siamo allo sport, al Viviani Continua, la consegna delle 200 maglie del Potenza agli abbonati Rosso Blu, sull'iniziativa che si rinnova di settimana in settimana, ha ricevuto anche il plauso della Lega Pro. Sentiamo Salvatore Colucci. Continua l'iniziativa con la consegna delle 200 maglie del Potenza agli abbonati, un appuntamento che si rinnova ogni settimana con gruppi da 20 e con la presenza volta per volta di uno sponsor presente proprio sulla casacca da gioco. Mercoledì pomeriggio la consegna la presenza di Giuseppe Meliante della FIMEL. Sposare il progetto Potenza è qualcosa di bello anche per la comunità e per il territorio? Sì, certamente sì. Noi lo abbiamo sposato da quest'anno, ci abbiamo creduto subito, siamo entrati nella famiglia del Potenza Calcio. Crediamo che l'Unione faccia la forza, in questo caso specifico abbraccia lo sport, il calcio, ma anche altre manifestazioni di solidarietà. e noi come FIMEL, come azienda, insomma, crediamo in questa tipologia di progetti, ecco perché siamo all'interno del progetto e l'abbiamo fatto da me i sponsor per quest'anno. L'iniziativa ha avuto anche il plauso della Lega Pro, che ha preso l'idea come prassi da proporre ad altre società di terza serie. La Lega Pro ci ha visto cosa stavamo facendo, abbiamo condiviso la possibilità di condividere sia con i tifosi, sia con la nostra parte degli sponsor, sia con la società e tutti i simpatizzanti, un'iniziativa in cui i colori rosso-bru la fanno da padrone. Come sapete ad agosto ci siamo dati un obiettivo che erano passati 1200 abbonamenti e abbiamo detto a tutti quanti dal millesimo abbonamento in poi regaleremo una maglia a sorteggio tra tutti gli abbonati. Lo stiamo facendo ogni mercoledì, ci vediamo qui in area relax per far vivere da vicino Casa Viviani e i nostri tifosi e in ogni giornata invitiamo un nostro sponsor che ci aiuta nella distribuzione delle maglie e parla un po' dei prodotti o dei servizi che ha messo a disposizione e per i quali ha creduto nel progetto Potenza Calcio. La Lega ha guardato questo e ci ha preso come buona pratica. Qualche settimana fa lo abbiamo presentato in una col pubblica con tutte le squadre del girone A, B e C della Lega Pro In chiusura parliamo di eventi, sarà il consueto concerto di Capodanno ad aprire la 38esima edizione della stagione concertistica di Ateneo Musica Basilicata il cui cartellone è stato presentato questa mattina a Potenza saranno 17 gli appuntamenti in programma al Teatro Francesco Stabile dal 1 gennaio al 27 aprile 2025 con la partecipazione di artisti del calibro di Simone Cristicchi Simona Molinari, Enzo De Caro e Ornella Muti tra gli spettacoli anche uno dedicato all'intelligenza artificiale dove sarà proposta Mina. Ed è tutto per questa edizione ora vi lascio alle previsioni meteo a cura del nostro esperto Gaetano Brindisi grazie per essere stati con noi a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata Buongiorno a tutti ben ritrovati per l'appuntamento meteo continua questa lunga fase di siccità oggi sì c'è una perturbazione ma si sta chiudendo il mese di novembre con quantitativi di pioggia assolutamente anomali insignificanti abbiamo l'università Macchia Romana 12 mm il mese di novembre 12 mm, considerate l'anno scorso eravamo sui 120 mm abbiamo il 10% della pioggia dell'anno scorso è molto comunque meno della media che dovrebbe essere intorno ai 70-80 mm dicevo nelle scorse puntate l'unico mese degli ultimi 17-18 mesi sopra media è stato il novembre 2023 dopodiché sempre mesi inferiori alla media però questa volta stiamo toccando davvero il fondo ci salveranno le piogge di oggi qualche millimetro quello sì ma insomma già la perturbazione non sarà forte o importante come si immaginava fino a ieri man mano i modelli sembra che tolgano la pioggia proprio arrivato sulla Basilicata c'è una cupola si sta formando una cupola il contrario della nuvola di Fantozzi qua abbiamo la cupola di Fantozzi perché ogni volta che arriva una perturbazione sembra venire saltata soprattutto la zona interessata poi del Camastra se vogliamo è una maledizione speriamo che qualcosa si cominci a muovere intanto si vede un po' di pioggia oggi sta piovendo in modo sparso sulla nostra regione in serata tutto migliorerà rimane una instabilità così molto effimera per domani e dopodomani lo vedremo con calma intanto vediamo il satellite ci mostra anticiclone che per fortuna questa volta vedete prende l'Europa centrale, l'Europa occidentale, il Nord Africa quindi da noi può transitare questa perturbazione che vediamo tra l'Italia meridionale, il centro meridionale, la Grecia e l'Albania è una perturbazione a carattere freddo preceduta da venti più tiepidi ieri sera comunque avete visto stanotte è fatto piuttosto caldo ora le temperature sono in netta diminuzione a partire da questa sera però dopo che sarà passata la perturbazione quindi la neve si vedrà solo in montagna almeno per il momento per oggi poi vedremo domani se ci sarà qualche cosa anche più basso vediamo lo zoom sull'Italia e notiamo appunto la perturbazione che sta interessando in queste ore tutta la parte centro meridionale intanto ancora è fuori la Sicilia che verrà presa nelle prossime ore ma sarà soprattutto la Calabria il maggiore destinatario delle precipitazioni sia dal punto di vista delle piogge sia dal punto di vista della neve con la Sila che farà un buon quantitativo di coltre bianca mentre sulle nostre montagne sì un po' di neve la vedremo a partire dai mille metri ma non avremo queste nevicate così abbondanti vediamo quindi con l'aiuto della grafica di Meteo 7 questa è la previsione per oggi una previsione che è appunto incentrata proprio improntata su un maltempo fase di maltempo che però durerà poche ore perché poi nella seconda parte della giornata quindi già nella tardo pomeriggio inizio serata già la situazione andrà migliorando e quindi ci aspetta un miglioramento perché sarà molto veloce questa perturbazione andrà poi a stazionare un po' più come dicevo sulla Calabria e sullo Ionio da noi solo la parte meridionale della Basilicata infatti vedete anche il simbolo del temporale proprio nella zona del Pollino ai confini con la Calabria le temperature sono ancora piuttosto miti 11 la massima potenza 13 a Matera scendono le minime ma scendono però questa sera le minime stamattina erano decisamente alte quindi si raggiungeranno in serata con valori di 4 a potenza e 6 a Matera lo zero termico nel mezzanotte più o meno si porterà intorno ai 1200 metri e quindi eventuali precipitazioni in tarda serata saranno nevose ma come dicevo il grosso della perturbazione andrà via entro sera andiamo a vedere la giornata di domani una instabilità rimane una ritornante da est vedete quei simboli di fiocchi di neve sulle zone interne qualche nevicata un po' più importante sul Pollino le nevicate mediamente saranno intorno a 900 millimetri ma parliamo di nevicate 1, 2, 3 centimetri massimo a quote più basse qualche spolverata si potrà vedere quindi non escluso che anche su Potenza come sabato scorso ci siano dei rovesci piuttosto così deboli ma non escluso domani una nevicata anche su Potenza insomma 7-800 metri a salire si potrà vedere un po' di neve in montagna qualche centimetro in più ma ripeto ma saranno precipitazioni non molto consistenti le temperature scendono sensibilmente minima di 2 gradi a Potenza 5 gradi a Matera massime intorno ai 4-5 gradi su Potenza e 8-9 gradi su Matera i venti da nord di rinforzo domani quindi nord-nord-est si farà freddo quindi sicuramente una giornata di stampo invernale a tutti gli effetti la domenica ancora c'è qualche residuo qualche residuo strascico soprattutto nelle primissime ore di domenica mattina quindi tra sabato notte e domenica mattina ancora qualche precipitazione qualche nevicata in montagna che nel frattempo però con la quota neve che nel frattempo si sarà alzata perché lo zero termico si sarà portato nel frattempo intorno ai 1.400-1.500 metri quindi siamo sui 1.300 metri perché poi le precipitazioni sono deboli se fossero state forti potevamo avere la neve anche sotto i 1.000 metri ma con precipitazioni deboli più o meno siamo di 100-200 metri di sotto dello zero termico quindi 1.200-1.300 poi il tempo va migliorando e saranno le zone orientali quelle le ultime a ricevere un po' di pioggia nel complesso come vedete in questi 3 giorni se va bene 10-15 mm di pioggia se va bene ma non credo che arriveremo a questi quantitativi io credo su potenza in zona interessata del Camastro non più di 6-7 mm se va bene i venti tendono ad attenuarsi per quanto riguarda domenica quindi questo significa che c'è un certo allontanamento del maltempo infatti la giornata di lunedì è all'insegna del bel tempo vediamo inizia il mese di dicembre con il domenica lunedì avremo tempo bello nuvole sparse lungo l'appennino ma scarso a nullo rischio di precipitazioni valori che aumentano 4 a potenza e 7 a materia le minime 10 a potenza e 12 a materia le massime insomma valori che tornano a salire piano piano ma diciamo non è detto che poi nei prossimi giorni non arrivi altre perturbazioni a carattere freddo diversi modelli sono per questa indicazione infatti vediamo la cartina degli spaghetti che ci mostra ecco chiaramente ci mostra la tendenza per i prossimi giorni abbiamo una netta diminuzione tra oggi e domani praticamente scendiamo di circa 9-10 gradi nel giro di 24 ore ma le precipitazioni nella parte bassa vedete ci sono quando le temperature ancora non sono scese quindi ecco perché non nevicherà a quote bass ma solamente in alta montagna questo pomeriggio poi avremo un aumento di nuovo delle temperature tra lunedì e martedì e poi tra mercoledì giovedì dovrebbero scendere nuovamente si portano leggermente al di sotto della media che è la linea rossa ricordo quindi avremo diversi giorni con temperatura più o meno che oscilleranno nelle medie o al di sotto delle medie la cosa però che vorrei farvi notare è che dal 4-5 dicembre tutti i giorni sembrerebbero che arrivino delle precipitazioni che poi siano piogge siano neve lo vedremo ma intanto si muove qualcosa quindi un'atmosfera più dinamica un'atmosfera più non più diciamo governata da alte pressioni ferme sul Mediterraneo ma finalmente si comincia a vedere qualcosa quindi da giovedì venerdì prossimo dovrebbero esserci una serie di perturbazioni a volte più fredde a volte meno fredde che porteranno precipitazioni ma naturalmente più neve farà in montagna maggiore saranno i serbatoi a goderne ma ci vorrà tempo affinché si ripristini il normale ciclo proprio dell'acqua delle risorse idriche mesi e mesi veniamo da una lunga siccità quindi non è che le prime nevicate riempiranno le diche ci vorranno mesi di neve di pioggia finalmente per vedere poi una luce e un fondo al tunnel per oggi non mi resta che augurarvi una buona giornata buon proseguimento con i programmi della Nuova TV e arrivederci la prossima settimana Grazie a tutti